Alla burocrazia che riesce a vanificare quelli che potrebbero essere delle agevolazioni per tutti noi. Il fatto di dare un comodato d'uso che vantaggio fiscale ti dà poi? La riduzione al 50% della base imponibile, per cui se prima pagavo 200, dopo pago 100. Si è discusso anche di abitazioni, contratti d'affitto e comodato d'uso oggi nel linea diretta con la CGL Treviso. Un argomento approfondito in particolare per le seconde abitazioni date in utilizzo ai figli. Se tu vuoi usufruire interamente del comodato per tutto l'anno 2016, il contratto di comodato doveva essere registrato entro il 16 gennaio. Una modalità che in teoria dovrebbe far risparmiare i padri a vantaggio dei figli, ma in realtà alimenta solo la macchina burocratica, perché se l'agevolazione media è sui 100 euro, il costo è ben superiore. Quindi diciamo che rispetto a prima bisogna registrare un contratto di comodato. Costo? Costo 200 euro di imposta di registro più il bollo, più la redazione del contratto. Come avete capito, con 200 euro si vanifica quella che invece è l'agevolazione sulle tasse.